www.pianetaciclismo.it Sono impegnati i primi protagonisti di giornata, si tratta dei piccoli atleti della categoria G1 e per loro emozione doppia, stanno infatti affrontando la loro primissima gara e quindi per la prima volta avranno l'occasione di confrontarsi realmente con i loro colleghi della stessa età. Purtroppo le condizioni meteo quest'oggi sono piuttosto proibitive, il freddo e qualche goccia di pioggia hanno infatti sicuramente influenzato la prestazione dei nostri atleti, che comunque con coraggio hanno portato a termine la loro prova. Stiamo attendendo il primo arrivo di questa bella giornata ed ecco che dall'ultima curva spunta Baldan Marco della Spring Gedi che riesce a conquistare la vittoria davanti a Bonini Christian della Ronco, Quirini Davide del progetto ciclismo Rodengo Saiano e Bicelli Michele e Datteri Matteo della Feralpi. Tra le bambine vince Malcotti Giorgia della Grafica e Zorzi.